Dopo l'accocente, amara, delusione del match del Bonolis contro il Monterosi, l'Avellino tornerà ad allenarsi nella giornata di martedì. I lupi di Mister Pazienza inizieranno a preparare l'ostico match del Monterisi di Cerignola. Non è stata ancora sciolta la riserva. Se la seduta di allenamento sarà a porta aperte oppure sarà blindata. A preoccupare in ogni caso il trainer di Sansevero, in vista della gara contro la sua ex squadra, oltre le squalifiche certe di Armellino e De Cristofaro, le condizioni dell'attaccante Cosimo Patierno. Il capocannoniere dei lupi con 11 sigilli, nelle prossime ore si sottoporrà a esami strumentali per stabilire l'entità del suo infortunio patito al Bonolis nel primo tempo. L'attaccante di Bitonto, nel momento migliore del suo campionato, potrebbe prendersi qualche settimana di riposo forzato. In questa stagione è già la seconda volta. A centrocampo pronto a scaldare nuovamente i motori Palmiero, mentre per Tito è dall'Oio tenuti, sempre sotto osservazione da parte dello staff medico, non si conoscono ancora i tempi di recupero.